Sì, stiamo entrando, stiamo entrando, io ho perso, permesso. Ho sentito un urlo provvedente dalla casa col comignolo rosso, stavo per andare a controllare ma i detriti mi hanno bloccato il passaggio, porco dio, lo so, chi avrebbe mai pensato che alla fine il buco nella parete della stalla si sarebbe rilevato, rivelato utile, il buco nella parete della stalla, hai capito? Allora speriamo di esplorare questa casa e poi dobbiamo trovare il buco, qua c'è un rimaldello da usare, lo uso. Eh, facciamo così. Questo fucile. Vada, è ancora rossa. Tanto è tutto unico ambiente qua, quindi... Allora, porco, esplosa una finestra, ci va. Ho trovato un animale di legno, che cazzo è un animale di legno? Non lo so. Sarà una roba da vendere, di valore combinabile. Ok. Allora niente, l'ho sbloccata, e guarda che andiamo nella parte di sotto adesso, ci casiamo. Esatto, ma è ancora nostra, però ce l'ho qua. Quindi cosa l'ho preso? No, no, io l'ho. Cosa l'ho preso io? Su, c'è il blu? Su, c'è. Ah, poi l'avevo preso. Adesso sì, l'avevo preso tanto l'armaggio di demolizione. Ok, andiamo via, ok. Allora, buco nella parete della stalla. Allora, intanto apriamo una shortcut qua. Ok. Ok. Esatto. Spostiamo. Armaglio di merda. Adesso arriva qualcuno, come minimo. Cioè, vai a fare il culo. No, vai a fare il culo. Lo sapevo io. Ok. Qua c'è uno che caca. Va bene. Allora. Quindi. A questo punto, prima di entrare nella casa col comignolo rosso, Beppe, andiamo ad esplorarci le due case che volevamo esplorarci. Esatto. Quelle lì che io... Eh, ma io ho usato cazzo, io ho usato il grimaldello. Vaffanculo, vabbè. Ah, è vero. Porca bastarda, è vero. Vabbè, senti inizio. Eh. Deve esserci un modo per muoverlo, cosa? Serve qualcosa. Eh. A me lo dici. Ah, così non possiamo passare perché abbiamo il... Ah, vabbè, più o meno. Cazzo. Possiamo andare a destra. Sinistra. Sinistra. Allora, andiamo giù, andiamo in queste case qua. Vedi lì, per esempio, c'è un Duno Tenter a cui possiamo sparare. Allora, ho sparato la gabbia di cazzo di uccelli e cominciare il fucile, ok? Aspetta, 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 regalo. Una l'ho fatta. Ah, ci sta dall'altro lato, vaffanculo. Vediamo qua, Duno Tenter, vediamo che succede. Officina. Esatto. Chi è Bain, questo qua? Guarda fuori dalla finestra. Devo proprio. Cazzo 4. Cosa vuol dire guarda fuori dalla finestra, raga? C'è una combinazione. Eh, praticamente, se tu guardi dove ci interagisci, in un mobile, c'è anche una combinazione. Se tu guardi la finestra, qua c'è scritto 0,4. Dov'è minchia lo vedi? Ah. 0,4. Dobbiamo sovrapporlo, mi sa, con la casa. No? 0,4, 0,7. 0,4, 0,7. 0,8. 0,4, 0,7, 0,8. No, aspetta. 0,4, 0,7, 0,8. Lo faccio succedere un cazzo. Mi ha sbagliato ordine. 0,7, 0,4, scusami. 0,7, 0,4, 0,8. Ok, 0,7. 0,4. Ok, si è aperto. Manovella di Erik, quanta roba. Cambiato pistola? Una pistola, sì. Eh, ma io avevo potenziato l'altra, carne di Cristo. Ah, vabbè, va tanto altre... Non di Erik. Esatto. Mi sa che ha tanto altre munizioni. Questa pistola qua. La legge. Vediamo? Sì, sì, altre punizioni, ne sono sette. Sono più potenti, vabbè. Va bene, tienila lì. Va bene. Esplorato. Quindi abbiamo sta manovella. Allora. Quindi ora, che dobbiamo fare? Dobbiamo, prima di proseguire, dobbiamo farci tutti i pozzi. Tutti i pozzi. Tutti i pozzi. Tra l'altro, non c'erano delle robe... Scusami, eh. Perdonami. Non c'erano delle manovelle da fare anche nel castello di Mitrescu? Domanda. Eh, c'è un problema. Eh, bene. Ti cura, dice. Non me lo ricordo, però... No, a parte quello. C'è un problema più grave. Guarda. Sono circondato. Io non mi ricordo dove cazzo dove devo andare adesso. Perché noi abbiamo fatto il gomito o no? Ma poi ci siamo andati a fare i cazzi nostri. Ah, dobbiamo tornare a dove c'è il trattore. Questo punto... Oh mio dio. Ovviamente non ho una bomba. Più lecchigna con la... Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Boh, ho sboccato il tuo cuore con l'fc 1, che mi senti su te con la bomba. Boh, compagli tutti i c, io uso la manovella qua, sto punto. Prendo qualcosa. La manovella di Eric. Ah no, non li proprio riporti questa manovella, forse. No. Mi serve qualcosa. Va bene. Ciò vuol dire che la manovella ci serve solo per il trattore, quindi ritardiamo il discorso praticamente più tardi, va bene. Esatto. Aspetta, però. La casa rossa... Voglio vedere la casa rossa prima di fare la manovella, eh. Ti spiace. Quella lì, quella lì, quella vicino. Eh. Quella vicino al pozzo. Eh, voglio capire perché cazzo è rossa. Perché da una parte non può entrare. Ah, ma hai chiuso l'altro lato. Esatto. E allora... Nadia Gesù del Cri... Vabbè, niente. Se non posso entrare... Sfostiamo il trattore. Esatto. E da qua. Va bene. Vediamo la manovella di Eric. Esatto. Funziona. Fine. Fine. Poi? E quindi? Ah! Sfosti sotto! E quindi... Passi sotto! Sono trattatore! Si riesci? Si però... Ho sentito... Ho sentito un rumore. Oh! Che cazzo è? Boh! Sapremo mai. Allora... Allora... Quindi qua possiamo girare... Non solo girare a sinistra... Ma possiamo anche... Tornarcene all'inizio. Ci facciamo andiamo e torniamo a casa. Esatto. Boh... Esatto. Ti sento! Ma non ti cago. Voglio andare a vedere perché sta cazzo di casa è rossa. Ti sento in piedi. Eh... Però cazzo... No! Ma te lo dico io perché è rossa, Beppe? Perché c'è il Grimaldello. Ah... E che noi non abbiamo. Fammi scassare sta cassa. Non c'è un Grimaldello dentro. Oh! Ma che cazzo? Che hai visto, Beppe? Un maiale che mi è corso addosso. Qua mi dà il segno della capra. Però non la vedo. Dov'è che la scanno? Ragazzi dite no alla violenza sugli animali. Eh... perché... Però dov'è? Io ho mattato un maiale. Io no. Scanne per due. E infatti... Ehm... Mi ha cancellato il maiale. Ah! 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 Esatto. Vabbè sono i 22 следующissima sicuro... beh... C'era una casa... Esatto... No. Quindi mi ricordo che c'era una casa dove si poteva guardare la zuppetta, non è che magari si poteva cucinare lì? No? In realtà è bestiale C'era l'icona della capra Ma intendeva il maiale Eh lo so La serratura facile da scassinare Eh ci vediamo Però Beppe Che cazzo dobbiamo fare Perché se non possiamo scassinare qua Non possiamo fare i pozzi Beh te lo dico io Qua intanto c'è la serratura con lucchetto Da sparare verso sinistra Deve cazzo scusa Se non io sono uscito fuori Nella casa no? Guarda la mappa fuori Uscito dalla casa a sinistra C'è a sinistra Nella mappa Non a sinistra della casa Aspetta Aspetta esco fuori dalla casa C'è il sentiero Scendo giù E ti sento Sono riferito Non mi trovo questo Sai che non lo sto trovando Eric? Beh Beppe Non è Lì Come apri la mappa la vedi Non so neanche come spiegartelo diversamente C'è un'icona di Di un lucchetto Sì Perché magari mi hai sdoccato quel lucchetto Perché Ehi fammi il proprio Fammi lo spiegare Io sono ancora Dove c'è il maiale C'è il lucchetto Ce l'aspettano Forza 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 Oh bomba Arriva la bomba Che scoppiere in bomba Ma alla fine Ma alla fine sta casa è del gommetto da vostro Dove mi iniziare perché Siamo abbiamo fatto Siamo passati sotto Eh no Esatto E' vero Non ci siamo entrati in sta casa di merda Aspetta Una cosa per volte Io devo andare a spaccare sto lucchetto Mi sono trovato tutti di canter Più in mezzo ai coglioni Porco Chi è? Ma questo chi cazzo è? C'è problema Io lancio la bomba Perché qua siamo usciti Io sto cercando ancora il lucchetto Magari lo becco Io ho trovato un lican troppo corazzato Te lo dico eh Eh io sto cercando ancora il lucchetto Perché io il lucchetto non l'ho trovato ancora Cioè io ce l'ho segnato nella mappa E ho trovato anche una porta di ferro Ah lui ho capito dove cazzo sei So dove sei Però la porta di ferro penso sia esclusivamente Una short cut Ma vediamo dopo Prima voglio So 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 dove sei No aspetta però Scusami Beppe Ho confuso Beh comunque un lucchetto c'è Però è più in alto Io in realtà ora ho trovato Una porta con la stemma di ferro Non un lucchetto Ok Quando sto andando lì E sto andando lì Perché poi mi sono spostato nella lotta con il lican troppo pazzesco Ruota del pozzo Ruota del puzzo Va bene Ma chi è Ma chi è Eh te l'ho detto Ma quanti sono? Tanti Ok ho trovato quello colazzato Poi mi sbatto e tiro la granata Allora però qua Ah ok Qua ho trovato per entrare nella casa quel comigno Ecco vabbè Ok Ho Che mi munizioni Allora Io sono arrivato adesso Alla porta della chiave di ferro Che a sto punto la metto dentro E qua dentro Dove c'è? Un'unica di precisione Ruota del pozzo Qua c'è un lucchetto Che si è uscito E questo lucchetto cosa sarebbe? Una short cut Va bene Sarebbe semplicemente una short cut Qua c'è il lucchetto Gli sparo Tiro la short cut E qua però non l'abbiamo Sti due palazzi Io non li ho Dopo la Non li ho guardati Se li guardo Eh niente Io posso entrare nella casa quel comigno rosso Però fermo Noi a questo punto abbiamo la ruota col pozzo Vogliamo entrarci davvero? Quella è la Cioè la casa del comigno rosso E' quella dove hai spaccato il lucchetto? Eh eh sì In quel cortile lì Ok Eh niente Vogliamo farci tutti i pozzi Beppe? Facciamoci i pozzi Il primo pozzo che trovo Cioè sì Prima L'ho cacciato in realtà E' quello lì che c'è Quello che volevamo aprire prima Che la venne indietro Animali di legno e testa Che lo possiamo combinare Hai già fatto il piovo pozzo? Eh? Ma che vorrei Io ho deciso ancora arrivare Collana con due incavi Che sarà sempre roba da vendere Io però vicino alla casa di Luisa Ho trovato la collana di Luisa Ma è andata a fare E' sicuramente Quella per venderla E tutto il giro faccio L'arrivando con me Alla farò vale Che rettura di palla E' munizioni magnum Anche ho trovato C'è meglio di Luisa Va bene E' pazzesco Niente Devo uscire Devo uscire E andare a sinistra Ok Tanta roba Comunque inizio Inizio a dubitare Che quelli che ho fatto 6 ore 7 ore 8 ore E' un sacco Sparo da qua Perché non è possibile Carne di qualità Tanta roba E' non è possibile Non ho capito cosa mi ha dato Bombe E poi fatto questo Io Ok Grimaldello raccolto Io voglio provare Ad andare a vedere Se ci fa tornare Al castello Dimitrescu Per curiosità Solo capire Se ti ci fa tornare E poi Dopodichè In realtà Bisognerebbe pensare Di andare a Provare ad aprire il ponte Con la manovella Le pozze E vedere se funziona Esatto O con il Crick O con il crick Non ne so Sto ammattando sui corvacci qua Menzione di precisione Ok Tutto blu Vuol dire Solo corri Lì però Come ci arrivo Qua abbiamo ancora Ricordiamoci Una porta Con lo stemma De fero Non ci arrivo Se possa Io faccio una porta Quella No Non è ancora aperta Non è ancora aperta Non è ancora aperta Quella mi manca Perché qui è chiuso Non so come Adesso Adesso Faccio un cesso Un cini magnum Allora Un maiale Non voglio farti soffrire Dai Allora O per andare Dall'altra parte Bisogna No Maiale L'ho preso Pes niente O dobbiamo entrare Nella casa Col comignolo Per poter andare Dall'altra parte Eh Aspetta Oh no Eh Beppe sono entrato Senza farla apposta Ho preso un video Eh No No Però siete delle bestie Perché sono caduto Dal tetto Adesso vedo Ci sono alti pozzi Ci ho fatti tutti i pozzi Boh Quindi sei andato Sentato nella casa O infatti Eh ma non ho mai sentrato Quindi Intanto sei sentrato Anch'io Eh niente C'è un lupo mannaro Perché praticamente La maniera per entrarci Era dal tetto Io non lo sapevo Esplorandoci Sono caduto Ah non è dal Dal cortile Eh dal cortile Ti arrampichi sul tetto Allora attenzione Capito 1 febbraio Amato in una sorta In una sorta di cristallo Bianco E poi Non ho potuto Evitare di chiederle Perché facesse una cosa Del genere Quando madre Miranda Mi ha sorriso Ha detto Questa è la bambina Prescelta Qualunque cosa le accada Potrà tornare Le sue sembianze originali Che paraculata Vabbè Dopodiché Ha consegnato A ogni signori Signore Un pezzo del cristallo In un flacone Sono tutti andati via Ho dimenticato Di inchinarmi a madre Miranda Prima di andare via Non serviva A specificare Che può tornare Alle sembianze originali In questa lettera È proprio un po' Una paraculata Non mi piace Tu ci Nel senso che così Tu ti dati La speranza Del fatto che Sì C'è te Oramai Già sai Come andrà a finire Mentre prima Cioè Prima Avevi una speranza Data da che cazzo Ti ha detto il duca Mentre così Lo sai per certo Non lo so La chiave lata È solo un pezzo Sono necessarie Alte tre parti Vabbè Io intanto Sono ancora qua Che cerco Questa Questa Allora Combinato con chiave lata Penso di aver fatto La chiave Ho fatto la chiave A quattro ali Allora Aspetta Che arrivo Che qua Che qua Io sono ancora Qua il giro Qua il giro Perché mi sono perso Mi sono perso Perché non trovo Il trattore di Ah di qua Eh certo Allora Aspetta Sto passando Sotto il trattore È la chiave di ferro Aspetta Eh no Mi sa che Eh no Perché adesso Che ho fatto La chiave A quattro ali Possiamo poi andarci Passando dal duca Mi sa Quindi andiamo Allora Non ho capito Allora arrivo È da me Sotto il tempo Di piastecchia Un po' indietro Un po' indietro Perché Ho avuto Ho fatto fatica A A trovare La porta di Ah è da dove C'è raggiunto Ah è partito un video Dal duca Porco Ah beh Vabbè Tant'altro Ti ripido La prima Che hai già Conviate La Lady Dimitrescu La seconda Vive in un Valle Di misto La Dona Beneviento E Dona Beneviento Non è Non è Noi miei figli che non sono tornati da quella vecchia estate. Il terzo è Moro, un being di freddo, che vive nel riservo, pasto le venti. È detto che non è il solo monstero che vive in queste luci. Il terzo e più veloce è Heisenberg. L'ho lavorato nella sua fabbrica, sulle vittime. E il progetto... Sì, il cortile per andare nella casa del Cristo, no? Perché io ho trovato una chiave a porta di violino che non ci possa entrare. Cazzo sono finito. Oh madonna, non lo so. Cazzo di come è noto. C'è scritto, a chi di competenza, visto la prolungata senza del liutaio, tengo in custodia le chiavi della sua casa. Rivolgete a me in caso di necessità. Non so dove mica sei finito. Allora non ho trovato io la casa del cazzo ancora. Questa qui è una porta... Perché io ho ancora te... Allora, aspetta, 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 siamo calmi. Siamo hyper-mega calmi. Madonna, madonna quanto è grossa sta mappa. Eh, te volevi finirlo lunedì. Eh, no, ma per me qua chi lo sta facendo bene, se a noi non gli... gli youtuber praticamente. Eh, perché... non è possibile che... io voto quel tetto, adesso. E' una cosa di grande notizia a te. Perché ti facciamolo tutto? Perché, è tutto parte del nostro servizio di clienti prima classe. Per favore, venite ancora in breve. Naturalmente. Ah, sì, ho capito che cazzo. Ho capito che cazzo in cui cazzo. Oh, a parte che... tirati fuori il microfono dal culo perché non si sente più niente, primo. Secondo, ora dal duca posso cucinare. Bello. Pesce alle erbe, ingredienti, pesce e pollo. La salute aumenta permanente. Eh, allora aspettiamo questo, se la salute aumenta permanente. La salute aumenta di molto permanente. Il danno ricevuto in guardia viene ridotto di molto. Molto interessante. La velocità di movimento aumenta. Bene, quindi non serve a sopravvivere e cucinare. E niente, praticamente allora si possono aprire adesso tutte le porte con le quattro ali. E se ascolti me lo facciamo domani. Eh no, porcaccio del Dio, ho sprecato una cura. Erick, però sono molto soddisfatto perché fondamentalmente le zone blu le abbiamo fatte tutte, quasi tutte, a parte che non possiamo andare, ma... Ah, sì, ho fatto. Allora, vado dal duca, così mi vedo il video anch'io. Che comunque siamo noi che lo stanno giocando come Dio comanda. Hai provato ad andare indietro la cassa di Dimitretti? No, adesso effettivamente per curiosità ci posso... Va, io ci sto già provando, ci sto già provando e il ponte elevatoio alzato non ci può più tornare. Boh. Va bene. Anche perché è crollato tutto, vado dal duca. Vado dal duca. Niente, io ho salvato e io direi anche che sto interrompendo la live. E poi vediamo. Questa è l'attrezzatura, uno vuole fare i video poi. Un scomodo come Cristo montato sulla croce a puttana madre. Eh no.